Salve a tutti, vediamo come completare la missione secondaria AKS direttamente dalla mia live su Twitch su The Dailant 2. Allora, andiamo all'edificio in questione che troverete sulla minimappa, vi porterà qui, ok, entriamo e tutto quello che dobbiamo fare è distruggere il pannello elettrico qui o lanciandoci qualcosa o usando un'arma da fuoco. Io uso l'arma da fuoco. Bene, e questa è l'altra cosa che dobbiamo fare, mi ero bloccato qui, ecco, entrare nel bagno e distruggere anche questo pannello elettrico. Solo a questo punto si aprirà la porta, non questa, ma quella a sinistra. Perfetto, quindi entriamo e andiamo a raccogliere la tessera, la chiave, anzi, della cella 2 e qua la chiave magnetica. Perfetto, adesso possiamo andare ad aprire la cella, ecco qui. Attenzione che però questa sarà chiusa, vedete? Ma la chiave si trova proprio qui, in realtà, in quest'altra stanza. Eccola qui. Quindi deposito, ecco qua, e abbiamo fatto. Entriamo adesso nel deposito e facciamo piazza pulita di tutto. C'è anche un'ottima arma qui. E alla fine andiamo ad interagire, eccola qui la doppietta, con la custodia per armi che troviamo proprio qui, per terra. Intanto prendo tutto. Perfetto, eccola qui. E adesso possiamo tornare al Blue Crab e completare la missione. Spero di essere stato utile, ci vediamo al prossimo video. Ciao.